Il nostro rotocalco di informazione Questa sera porterà nelle vostre case un argomento sicuramente importante Parliamo di solidarietà, di un gesto che per noi può essere molto piccolo Ma per qualcuno può significare davvero tanto La donazione di un farmaco Parliamo infatti oggi, grazie all'ospite che mi ha raggiunto in studio Che ringrazio, della ventitresima settimana di raccolta del farmaco del Banco Farmaceutico Innanzitutto vado a presentarvi la mia ospite Sto parlando di Cristiana Pensa Vicepresidente del Banco Farmaceutico di Torino E prima di tutto farmacista Benvenuta Buonasera cara, grazie Allora, prima di addentrarci in questo argomento Vorrei dare qualche numero Perché siamo arrivati alla ventitresima edizione Quindi festeggiamo perché è sicuramente un numero importante Pensate, in vent'anni la giornata di raccolta del farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci Per un valore commerciale di circa 34 milioni di euro Quindi un risultato sicuramente importante a cui hanno contribuito tutti Questa è la cosa secondo me da mettere in evidenza Il fatto che è il frutto di un gesto spontaneo, volontario di tante persone Quest'anno la settimana della raccolta del farmaco si svolgerà nelle farmacie aderenti Dal 7 al 13 febbraio Allora, parliamo innanzitutto di come è stata pensata quest'anno, questa settimana Siamo usciti da due anni complicati con la pandemia E quest'anno che cosa si farà per così in qualche modo valorizzare questa iniziativa? Innanzitutto, con grande gioia, riavremo i volontari del banco in farmacia Nel senso che venendo da due anni di pandemia la presenza dei volontari per i noti problemi non era più consentita Quindi sicuramente il lavoro era più complicato Perché comunque il volontario che spesso è abbinato all'ente per cui la farmacia raccoglie È in grado di raccontare in maniera anche vivace e vivida soprattutto Quello per cui i farmaci raccolti serviranno Quindi la grande novità di quest'anno è che abbiamo di nuovo i volontari E quindi diciamo che è una maggior festa per tutti Per noi farmacisti perché abbiamo degli aiuti E anche per chi viene a donare perché sa dove i farmaci finiranno E quindi in termini di catena il ciclo si chiude decisamente meglio Con il volontario dell'ente presente in farmacia Quindi questa è sicuramente la novità più gradevole È un valore aggiunto sicuramente importante Molto importante anche perché il banco è fatto sì dal luogo fisico che la farmacia Dai farmacisti che lo preparano ma dai volontari che presentano e dai clienti che acquistano Quindi insomma è un piccolo micromondo in cui senza la presenza del volontario un pezzetto manca Certo, allora io vorrei chiedere alla regia di mandare in onda lo spot Che ogni anno viene realizzato per sensibilizzare appunto a questa giornata Per soffermarci su un elemento Perché è importante donare dei farmaci? A mamma e papà basta uno sguardo per capire che il loro piccolo non sta bene Alla febbre E stasera devono scegliere se dargli una medicina o qualcosa da mangiare Per chi è povero anche la salute è un lusso Banco farmaceutico raccoglie farmaci per donarli a 2000 enti e associazioni Che aiutano chi da solo non ce la fa Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi Dal 7 al 13 febbraio Vieni in farmacia e dona un farmaco per chi ha bisogno Allora devo dire che questo spot mi provoca sempre un colpo Perché è davvero assurdo che nel 2023 si debba scegliere Tra la possibilità di curarsi e quella di mangiare Che è una necessità ovviamente che abbiamo tutti noi quotidiana Così come quella di curarsi Quindi è proprio per questo che è importante sensibilizzare su questo tema Sì, infatti è importante aderire alla giornata di raccolta Sia come farmacie, dico Sia come possibili donatori Perché comunque la povertà sanitaria Che spesso è più silente di quella alimentare È comunque una dimensione che cuba all'interno della dimensione di benessere di una famiglia Nel senso che leggendo quello che è stato il rapporto che c'è tutti gli anni sulla povertà sanitaria I dati che emergono è che in ogni caso il 43% della spesa viene sostenuta personalmente dalle famiglie Perché sono farmaci che sono a pagamento e sono a carico del paziente Ma sono anche quei farmaci che servono per curare quelle piccole patologie Tramite le quali probabilmente non ci si aggrava Essendo però a pagamento su una famiglia meno abbiente Una voce di spesa che ha la sua importanza Ecco perché è importante partecipare a una giornata Dei farmaci di autodemidicazione che sembrano quelli poi sempre di serie B Ma in realtà hanno una dimensione di cura importante Anche come piccola prevenzione Per evitare poi di degenerare E quindi hanno assolutamente il suo valore E poi comunque pensiamo anche alla qualità della vita Immaginiamo anche questi bambini Queste famiglie che magari possono avere la possibilità Di avere un medicinale che aiuti In quelli che sono i piccoli casi della vita Però che effettivamente peggiorano la giornata e la qualità della vita Perché in effetti durante questa settimana di raccolta del farmaco Si sarà indirizzati anche su quelli che sono i farmaci che si possono donare Perché ovviamente non si può donare tutto Quest'anno abbiamo 61 enti in città che hanno chiesto la possibilità di aderire alla giornata di raccolta Per avere poi i farmaci che vengono raccolti Ogni ente esprime il proprio bisogno in termini di farmaci di automedicazione Quindi la farmacia che è abbinata all'ente di riferimento Ha letteralmente un foglio del quale in base alle percentuali deve raccogliere In modo che si raccolga ciò che serva E quindi questo è un'altra un po' delle magie del banco Dico io Nel senso che si cerca di calibrare quello che è la domanda Con quello che si deve raccogliere Chiaramente se si fa match Tutto ciò che viene raccolto viene donato e utilizzato Soprattutto quindi il lavoro che c'è alle spalle E anche quello di intervistare l'ente e chiedergli che cosa gli serve E poi declinarlo nelle varie categorie di automedicazione Che poi il farmacista proporrà tramite i volontari A chi entra durante la giornata di raccolta Cioè ormai la settimana di raccolta Certo Ecco per quanto riguarda anche quindi i volontari di cui parlavamo prima Che sicuramente hanno un valore importante Perché a loro è demandata anche proprio il racconto di ciò che vuol dire donare un farmaco Questa filiera che accompagnerà poi quel farmaco Dalle mani del farmacista fino alla casa di una persona Abbiamo qualche numero, qualche dato C'è volontà, voglia di mettersi alla prova in queste iniziative? Sì dunque, mediamente il numero dei volontari coinvolti è tra gli 800 e i 900 E il bello di questi volontari è che hanno età delle più incredibili Cioè dai 18 anni agli 85 E abbiamo poi anche categorie che partecipano Tipo quelli della Croce Rossa, quelli della Marina, gli Alpini, i Carabinieri Quindi è un po' una gara a partecipare perché è vero che è una giornata o settimana impegnativa Ma è anche molto vitale Soprattutto perché comunque chi viene è conscio dell'importanza che ha Perché in qualche modo è un po' il tradugnone tra il farmacista Che poi spiega che cosa serve e il cliente che entra per comprare E quindi la dimensione del volontario assume veramente un valore direi quasi assoluto Perché sono i primi che le persone incontrano nel momento in cui gli viene spiegato Che cosa si sta facendo quel giorno in farmacia Ecco per essere molto chiari e spiegare ai nostri telespettatori Che magari grazie al nostro servizio potranno avere così una spinta in più per donare Si richiedono quindi quelli che sono definiti farmaci da banco Farmaci che non hanno l'obbligo di una ricetta medica Quindi stiamo parlando di antidolorifici, antinfiammatori da banco, antipiretici Quindi tutti quei farmaci che ci aiutano in caso di malesseri Di qualsiasi tipo di problema che abbia una lieve entità Però che dicevamo prima, tenendolo sotto controllo Può anche magari evitare che quel problema sia gravi E che porti quindi a patologie, a problemi più gravi Un elemento di cui parlavamo prima è proprio quello della povertà dei farmaci Cioè non avere la possibilità di acquistare un farmaco In Piemonte, a Torino, sono tanti gli enti che si occupano di questo E che sostengono anche le famiglie, le persone che hanno questa difficoltà Come si fa ad entrare in contatto anche con questi enti? Voi avete anche un modo di indirizzare le persone? Sì, nel senso che comunque il banco come dimensione è un ente di secondo livello Quindi si occupa proprio di donare agli enti che poi donneranno alle persone Per quello che io dico sempre, anche se sembra da libero cuore Che in realtà dietro una scatoletta c'è una persona Quindi l'importanza sia degli enti che si occupano di reperire quelli che sono i bisogni Sui territori e sia delle farmacie che sono capillari Quindi è un po' come dire un circolo della carità che va avanti e indietro Nel senso che comunque la farmacia è alle porte aperte Quindi è in grado di percepire come sentinella qual è il bisogno Se ovviamente ha un ente a cui può indirizzare la persona In qualche modo quella persona sarà presa in carico E l'ente se ne prenderà cura e a sua volta l'ente dirà al banco che cosa gli serve Quindi è veramente una filiera che va avanti e indietro Che parte dalla strada, banalmente Ma poi arriva fino a un punto dove poi la scatoletta torna indietro E in questo senso gli enti sono sicuramente Cioè Torino è una città che comunque ha una tradizione dei santi laici importante Quindi a parte quelli grossi che conosciamo tutti Esistono poi tutta una serie di piccoli enti Che sono anche direi di quartiere E quindi sono in grado di prendersi cura Collaborazione del farmacista e del banco Di chi ha bisogno e quindi andare direi abbastanza mirati anche Sono aumentate le esigenze in questi anni? Sì sicuramente diciamo che il Covid non ha aiutato Infatti durante comunque le giornate di raccolta degli anni 20 e 21 Che comunque c'è stata Comunque la città ha donato Direi ha donato proporzionalmente di più di quanto ci si aspettasse Proprio perché eravamo tutti in una situazione comunque non dico di guerra ma quasi Ma nessuno si è dimenticato degli ultimi E quindi la raccolta c'è stata anche se non c'erano i volontari Quest'anno abbiamo 287 farmacie che raccolgono Che è circa un 10% in più di quelle che avevamo l'anno scorso E anche gli enti sono cresciuti Quindi come dire è una progressione Che vuol dire che le persone hanno iniziato a percepire Che la povertà sanitaria esiste E quindi mentre io dico sempre uno un piatto di pasta non lo nega nessuno Cioè mentre vai al supermercato lo compri per te lo compri per un altro Fare il salto in cui tu dici io lo posso pagare ma l'altro no Vuol dire una notevole spicco di sensibilità secondo me E quindi questo non può che essere Per noi che facciamo quello una gioia Ecco per quanto riguarda le farmacie aderenti Ci sono le indicazioni sul sito ovviamente del banco farmaceutico Ma saranno anche molto evidenti grazie a dei banner Delle indicazioni proprio sulla farmacia stessa Sì nel senso che sul sito del banco Che è www.bancofarmaceuticotrino.org Ci sono tutte le farmacie aderenti E cliccando si può vedere quella che è più comoda E poi comunque tutte le farmacie che aderiscono hanno i cartelloni nelle vetrine In cui è inequivocabile che in quella settimana si raccoglie insomma Certo Cioè sono cartelloni di un metro per un metro e mezzo Quindi non si possono non vedere Non si possono non vedere Ecco e parliamo anche dell'altro elemento molto importante Di cui abbiamo parlato marginalmente Quello dei volontari Come si fa a diventare volontari del banco farmaceutico Perché immagino che questo possa essere anche una bella esperienza Per tanti giovani, tanti ragazzi Che vogliono mettere magari a disposizione Non tanto il loro portafoglio ma forse anche il loro tempo Sì allora lì i canali sono molteplici Sicuramente il primo è il passaparola Nel senso che chi lo fa normalmente si trova bene Ha un senso Spesso lo fanno di sabato pomeriggio Quindi comunque è una dimensione diversa Da quello in cui uno passerebbe un sabato pomeriggio Si è trovato bene se sono giovani Quindi diventa un passaparola E quindi in quel modo sicuramente Molti amici aderiscono in gruppi di amici Poi ad esempio abbiamo i volontari dell'università di farmacia Quindi durante le lezioni a ridosso del banco Viene ricordato che comunque esiste il banco farmaceutico Essendo futuri farmacisti È anche un'esperienza che ha un senso fare Poi sul sito del banco C'è scritto come si diventa volontario Anche sul sito istituzionale Quello della fondazione Quindi uno va, clicca, vede Nell'essenza vuol dire della disponibilità di 4 ore Più o meno a giorno Poi bene o male vengono tutti nella giornata di raccolta del sabato E dando le proprie nominativi Si viene poi chiamati E poi man mano diventa un po' come quando uno butta il sasso nello stagno Certo che si allarga Esatto Immagino che sia sicuramente una Come dire un'esperienza arricchente Per questi ragazzi, per i volontari, per i farmacisti stessi E immagino quanto lo sia per gli enti che poi porteranno concretamente questi farmaci A chi ne ha bisogno Lei ha anche come dire Il polso della situazione di come vengono percepiti da chi li riceve effettivamente Sì, ce l'ho nel senso che finita la settimana di raccolta I farmaci o vengono portati Cioè l'ente viene a prenderseli direttamente In alcune farmacie fa che venerseli a prendere Così li ha subito Oppure c'è un grossista molto generosamente Che provvede a recuperarli e poi a ridistribuirli Io ho le foto di quando i farmaci arrivano negli enti E' una festa Veramente non è una storia da libro cuore Ma è una festa Nel senso che chi magari dirige l'opera Ha un sorriso Veramente che va da un orecchio all'altro Purché con la giornata di raccolta Noi copriamo il 30% del fabbisogno di ciò che gli enti ci chiedono Cioè metta che la richiesta sia 105 mila pezzi Il banco ne riesce a raccogliere con la giornata sui 35-38 mila Quindi compriamo un 30% Quindi c'è ancora molto da raccogliere E spesso arriviamo a coprire Da adesso a settembre Quindi ci manca poi il pezzo delle prime malattie Da raffreddamento del prossimo autunno Quindi è ovvio che più si dona e più copriamo Nel senso che il sogno sarebbe arrivare a coprire Il fabbisogno dell'anno dopo Perché l'ente a noi dà il fabbisogno di tutto l'anno Tipo non so io raccolgo per i camigliani E loro hanno bisogno di 8 mila pezzi Siamo in 10 farmacie che abbiamo come ente camigliani Il top sarebbe riuscire a raccogliere Tra tutte 10-8 mila pezzi Perché sappiamo che almeno arrivano a gennaio del prossimo anno Poi è tutto trovato Quindi quello che si può fare va bene Ma nonostante lo sforzo non si copre tutto Bene, cerchiamo di dare qualcosa Quindi magari fare uno sforzo in più Ognuno di noi che possa dare qualcosa E pensare anche a chi ha più bisogno Le affido l'ultimo appello L'ultimo messaggio che vuole dare ai nostri telespettatori Che ci stanno seguendo in questo momento Sì, io penso che donare abbia un senso ultimo Perché dà un valore proprio alla scatoletta Che fisicamente viene acquistata Perché arriva a una persona E spesso questa è una dimensione che viene dimenticata E quindi dà valore alla scatoletta E dà valore alla persona Quindi aggiungendo il fatto che Quello che viene donato arriva E nulla va sprecato Più donate e più per il banco È sicuramente una gioia Assolutamente Quindi doniamo anche una gioia Al nostro vicino di casa Noi non lo sappiamo forse Perché come diceva lei Spesso questa povertà Passa più in silenzio C'è magari dignità Non lo si vuole dire Non si vuole esternare questa difficoltà Forse pensando che non sia così Una difficoltà così importante Se ho mal di testa posso tenermelo Anche se non ho i soldi Me lo tengo Piuttosto me lo tengo Piuttosto che chiedere aiuto Pensiamo che invece c'è qualcuno Che fortunatamente lavora proprio Per assicurare anche questo diritto Alle persone che hanno maggiori difficoltà Grazie davvero a Cristiana Pensa Vicepresidente del Banco Farmaceutico di Torino Grazie per il lavoro che fate Grazie a lei per l'ospitalità E grazie ai nostri telespettatori Che ci hanno seguito Vi ringrazio davvero Vi do l'appuntamento a domani Con un altro approfondimento Di Prima News Focus Arrivederci Grazie a tutti